Una valle, una fabbrica è il titolo del libro dedicato all'Olcese, lo storico cotonificio che aveva uno stabilimento a Clusone, laddove oggi si trova anche la nostra sede. Nel servizio di Nicola Andreoletti sentiamo l'intervista a Tullio Clementi, autore del libro insieme a Luigi Mastaglia, e l'intervista ad Aldo Girola, ex dipendente dell'Olcese di Clusone. Noi però abbiamo trovato, rispondato a parte significativa nella relazione tra la Valcamonica e Clusone, nel senso che ci sono stati periodi diversi anni, anche negli anni 60, 70, anche nei 50, in cui molta gente da Valcamonica veniva a Clusone, veniva a Clusone facendo circa metà strada a piedi, mezzi di fortuna, mezzi di fortuna fino all'overe era facile che ci fossero anche, c'erano già dei servizi, magari il pulmono e così via, poi mezzi di fortuna, ci sono donne intervistate ancora da un lavoro precedente, ricordo il lavoro di Roberto Andrea Lorenzi, la storia orale di Montecchio, per cui noi abbiamo poi attinto per questo libro, come ad altri, dove molte donne raccontavano appunto questa vicenda, per cui per noi rappresentava questa zona che è relativamente distante allora rispetto ad adesso per i viaggi, per i viaggi, per il tempo di viaggio, però queste donne che si sgubbavano alla settimana, non tutti i giorni ovviamente, venivano il lunedì mattina, prestissimo, buio e tornavano il sabato, sabato qui, mezzi che trovavano. Signor Aldo Girola, per quanti anni ha lavorato all'Olceso? Io ho lavorato per 35 anni, dal 1951 al 1984, quando è arrivata proprio l'età pensionabile che si doveva proprio andare in pensione. E in questi 35 anni che mansioni ha svolto? Beh, io quando sono entrato, sono entrato diciamo in officina, in officina meccanica, perché occorreva lì, si doveva imparare tutto, perché giustamente si era un ragazzo, poi con gli anni ho fatto una scuola domenicale all'Esperia, quindi la domenica mattina si andava, che era supportata dall'azienda, quindi sia il viaggio sia la spesa scolastica era supportata per i dipendenti giustamente. E poi, vabbè, abbiamo fatto corsi di meccanica e corsi di filatura, perché era interesse nostro, ma interesse dell'azienda giustamente, ecco, per avere poi del personale un po' specializzato per portare avanti la lavorazione dello stupendo filato che facevamo a Clusone. Filato, diciamo che la maggior parte andava in esportazione, talmente era pregiato, perché si lavorava una materia prima quasi tutta africana, cioè il cotone egiziano e il cotone sudanese, che dava una mischia, dava un filato con fibra lunga per camicie di moda, diciamo, ecco. E' peccato perché era un'azienda, era il fiore all'occhiello del gruppo Olcese.